Da domani Park Rabin rischia di rimanere chiuso a tempo indeterminato. Scade infatti la convenzione con APS giovedì 1 febbraio e, secondo un accordo stipulato in passato, l'area dovrà rimanere chiusa fino al completamento dei lavori del frontone. Lavori che però, come segnalano i commercianti, sono fermi da tempo. Avrei evitato di arrivare così lunghi su questa problematica, perché la stessa polizia municipale che tutti i sabati in maniera splendida presidia quella zona, bastava guardare il frontone per rendersi conto che di settimana in settimana, di mercato in mercato, non andava avanti neanche di un centimetro il lavoro. La facciata è stata cinturata, le macchinette dei parcometri verranno smontati, ma ancora nessun cartello avvisa gli automobilisti dell'imminente chiusura del parcheggio. Dal comune, bocche cucite in quest'ora a Palazzo Moroni, era previsto un vertice con il vice sindaco e tutti i soggetti coinvolti nella gestione, ma i commercianti temono il collasso del traffico di Prato della Valle. Domani ci troveremo gli abitué del mercato, o comunque chi pensa di venire il sabato e la domenica in Prato della Valle, quantomeno in centro, e pensare di avere, magari cosa che come consuetudine utilizza, il parcheggio di Piazzale Rabin troverà questa sorpresa, che inevitabilmente comporterà, che comincerà a girare, quindi creerà casino su casino, creando anche tutto quello che è l'effetto boomerang dello smog e quant'altro. Una ricaduta pesante per le numerose attività della zona. E purtroppo ci sarà anche l'effetto contrario, cioè quando poi, perché prima o poi si sbloccherà questa situazione, inevitabilmente pagheremo un po' d'azio, perché prima di ritornare allo status quo delle cose, inevitabilmente ci vuole del tempo. Grazie a tutti.